Ciao, sono Sergio Viotti, il nuovo portiere. Sono molto orgoglioso di indossare i vostri colori, speriamo di toglierci le soddisfazioni insieme. Sono un ragazzo sempre con il sorriso sulle labbra, faccio ridere perché penso che ridere sia la cosa più importante che ci sia. Quest'anno spero di togliermi le soddisfazioni tramite il campo, il lavoro, sacrificio ed edizione con l'aiuto dei miei compagni, speriamo di arrivare prima possibile a una salvezza tranquilla e dopo tutti insieme animare per un grosso successo. Quando non gioco, mi piace stare con gli amici, giocare alla PlayStation e naturalmente batterli. Vi aspetto numerosi allo stadio per trasmettere energia e portarci alla vittoria.